Lungo è l'elenco che vogliamo fare, ma decidi tu cosa portare. Per il nono un caldo cappello, un rospo in tasca a mio fratello, una fidanzata per il mio cane, ai piccioni tanto pane, un chicchi di riso per la minestra, un po' di pazienza per la maestra, una nuova scopa per la beffana, un giorno in più alla settimana.